La settimana scorsa in Italia ma anche in Europa ha avuto pochissimo riverbero mediatico un fatto che si è verificato negli Stati Uniti che ha una portata decisamente disruptive. Si tratta dell'approvazione alla Camera dei rappresentanti del disegno di legge per trasformare Washington DC, cioè il distretto federale, la capitale federale degli Stati Uniti, nel 51esimo Stato all'interno della federazione, quindi all'interno degli Stati Uniti. Sarebbe la prima volta che viene aggiunto un nuovo Stato ai 50 attuali dal 1959 quando vennero aggregati Alaska ed Hawaii. Ovviamente adesso si tratta di attendere luglio per la conferma da parte del Senato della volontà di trasformare Washington DC nel 51esimo Stato, dopodiché anche questo nuovo Stato aggiunto potrà vantare dei rappresentanti al Congresso e al Senato, in particolar modo due senatori all'interno del Senato e questo è letteralmente una notizia che cambia tutta la narrativa politica per il corso dell'attuale legislatura, in quanto, all'interno del mandato di Biden, in quanto se verrà approvato dal Senato questo provvedimento di legge che trasformerà appunto Washington DC nel 51esimo Stato, avranno la maggioranza assoluta all'interno del Senato i democratici, perché il distretto federale, sono circa 700.000 abitanti, sono dichiaratamente spostati per i democratici. Quindi sì, quello Stato rappresenterà di fatto due senatori, l'apporto di due senatori all'interno del Senato per i democratici, il che significa avere la possibilità di implementare perfettamente tutta la roadmap di Joe Biden, in quanto il Senato sarà a controllo totalitario dei democratici e non ci sarà più alcun tipo di problema nel portare quelle trasformazioni e quei cambiamenti storici a livello socio-economico e anche di tassazione federale per gli Stati Uniti, proprio perché c'è una fortissima capacità di avallare le scelte. Quello che sta emergendo adesso dalla narrazione politica negli Stati Uniti è che da parte dei repubblicani ovviamente c'è un certo tipo di timore, perché questo significa oltretutto che alle prossime elezioni ci sono due voti, due grandi elettori in più che sono portati da questo nuovo Stato che dovranno essere messi in conto quando si faranno le varie poll per chi sarà il prossimo presidente e pertanto questo mette ancora sotto scacco i repubblicani. Non è casuale che i democratici si siano mossi con un certo tipo di azione con l'intento di blindare tutto il mandato di Biden e anche avere le migliori prospettive per la prossima elezione affinché non possa ripetersi un'elezione tipo quella del 2016 o peggio ancora l'incognita che abbiamo vissuto nel 2020 per svariate settimane prima di avere una conferma ufficiale. Vi lascio in descrizione il link per andarvi a leggere questo articolo che è tratto da Reuters unitamente anche ad altri commenti di analisi politica che fanno comprendere l'importanza di questa votazione che si è svolta la settimana scorsa e che purtroppo in me in Italia non è stata assolutamente presa in considerazione.